In questa puntata di Cambio Moglie, due famiglie all'opposto. A Salerno, i Dauria, amanti della bella vita. Per loro il portafoglio è un apostrofo rosa tra le parole guadagno e spendo tutto. Mi sono comprato pure i capelli. A Piombino, i Russo. Per loro pensare al domani è un imperativo, sia per il futuro del pianeta che del loro conto in banca. E poi si sa, nella fiaba della cicale è la formica, è la formica e ci vede lungo. Si scambieranno le mogli per una settimana. Ciao. Il nostro budget settimanale è di 35 euro. I soldi sono fatti per essere spesi tutti, magari un po' più consapevolmente. Vivendo l'una la vita dell'altra. Porta il conto, vince. Quindi Vicarba spende soldi un po' a c***o. Esatto, bravo. Ma quando potranno cambiare le regole, niente sarà più come prima. Non è il fattore economico, è lo spreco. Andiamo a fare shopping? Che figura di m***a, ragazzi. Alla fine si confronteranno. Vivi in modo pesante. Non è che ci facciamo mancare nulla. E capiranno se qualcosa in loro sarà cambiato per sempre. Nient'anno cambio moglie. Ma seconda l'attenzione. Abbiamo un po' a c***o. Grazie a tutti.